Buongiorno signora direttrice, le presento Ikar, credo che preferisca essere chiamato Zucchina Io lo chiamerei patata con quella faccia Lascia il mio aquilone Oh è troppo forte Zucchina Andiamo, sveglia, datti una mossa o altro da fare io Sembra dolce come un caffè amaro quella Che donna orribile, veramente disgustosa Ehi nuova arrivata, raccontaci perché sei qui Perché mia madre tutte le mattine mi mandava a scuola mascherata da dinosauro Davvero? Ehi, mi prendi in giro? A me piacciono tanto i dinosauri Tutti fuori di testa Questi si chiamano preliminari Se Rosie fosse in un letto con il maestro pool Lei suderebbe un sacco E il pisellino del maestro pool esploderebbe Maestro, maestro Sì, Ahmed? Volevo sapere se sta bene il suo pisellino Perché se esplode non potremmo più andare sulla neve Lo sai, sul pool man Io non dormivo Vieni piccola mia, torniamo a casa Io non ti lascerò andare via Resteremo tutta la vita insieme Sì! Fermi così Sì! Yaaaaay!